Ancora effrazioni e razzie in appartamenti a Lucrezia di Cartoceto. Anche questa volta, ed ormai è una consuetudine, via di accesso prediletta dai ladri le porte dei garage che sicuramente oppongono meno resistenza di una porta blindata. La speranza è quella che l'appartamento sia comunicante, come già accaduto di recente nelle vilette a schiera fatte tutte in sequenza. A poca distanza da lì, in questi giorni, altre strade, altri condomini e altri appartamenti in tempi diversi sono stati violati dai malviventi che mirano esclusivamente a preziosi e contanti contenuti nei portafogli lasciati lì prima di andare a dormire. Sì, abbiamo avuto questo risveglio un po' drammatico. Siete accorti subito che qualcosa non andava? Sì, più che altro la mamma che si era alzata per andare a lavorare, lei aveva appoggiato la sera prima la borsa sul divano e già si era accorta che la borsa lì non c'era più. Quindi dopo è andata a ricontrollare in macchina, mentre io sono sceso a controllare nel garage ed era lì tutta svuotata, dove c'erano anche il portafoglio di mio padre e il computer di mio fratello. Dopo hanno fatto un po' l'ispezione, hanno preso quello che gli serviva ai soldi e un po' di oro, niente di che. Da dove sono entrati? Sono entrati dalla porta di sotto del garage, hanno levato la serratura e hanno fatto anche altre case nel vicinato. Ecco, avete fatto una verifica di quanto hanno portato via più o meno? Sì, all'incirca hanno portato via una settantina d'euro da mia mamma e 40 euro da mio babbo. Quindi all'ammontare un centinaio d'euro più queste bracciali d'oro che erano del battesimo. In che lasso di tempo sono arrivati? Durante la notte penso intorno alle 4, alle 3, alle 4, così. Anche questa volta ladri in azione con i proprietari che dormono tranquillamente nelle camere da letto. Ho aperto la porta del bruciatore, hanno preso tutti i saponi che c'erano perché c'era la scorta di saponi per la lavatrice, per i pavimenti, hanno portato via tutto quelli. Dopo c'era un paio di calzoni nuovi imbotiti che avevo comprato i nuovi nuovi, non li avevo messi ancora perché prima di metterli li lavo sempre, è una maglia lo stesso nuova, comprata giorni prima. L'avevo messo a lavare e hanno preso anche quelle. Quello che c'era? Quello che c'era, dopo non c'era più niente. L'anno scorso è lo stesso, lo stesso inverno passato è lo stesso, è successo la stessa cosa. Hanno passato da me, non sono venuti, ma intorno qui in zona sono venuti.